Vanda? Niente. Cosa? No. Perché sei qui? Sono qui perché sono stufo. Stufo di girare per questa orribile città ad aspettare che quello stronzo di... Ma parlare con questi inglesi, intellettualmente inferiori, imbalsamati, froci... Gesù, come sei nervosa? Hanno il rigor mortis nel pieno della vita in questo paese. Impalati, con i loro capelli impobatati. Impobatati che contano i secondi che mancano all'arrivo del fine settimana per potersi vestire come ballerine e andarsi a ubriacare nell'appartamento 4 al 2B. Due bicchieri! E poi... Crollano! Voglio dire, pretendere di essere così maledettamente avvocato. Superiori, così maledettamente superiori con quei loro birignaosi accenti. Non tu, Kent, tu parli stupendamente qualche volta. Un figlio di puttana!